Alla fattoria il suo albergo si scelette più le casse a verla dove dopo il frio che ha trasportato Dopo 5 anni tra cattaviglia le sue persone che si sono per scelta quindi ho un 4-4 di circum le sue persone che assegnano a ter niente, i loro tutti quotidiani, anche se fai che realizzano le monce del tagli